Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come L'attore simbolo del jet set internazionale Richard Ghiar è stato ricoverato d'urgenza Durante una vacanza in Messico organizzata con la famiglia le sue condizioni di salute già precarie sono peggiorate ed è stato costretto al ricovero in ospedale Molta paura tra i fan per le condizioni di salute del loro idolo ma le notizie, che sono emerse successivamente, hanno rassicurato gli utenti del web che chiedevano a gran voce di avere notizie su cosa fosse successa al loro idolo Le notizie che emergono parlano di un ricovero ospedaliero in Messico, causato da una polmonite e la notizia, rivelata dai media statunitensi, spiega che le condizioni di salute di Ghiar sono attualmente stabili e il noto attore è fuori pericolo È stato possibile per lui rientrare nella propria abitazione e continuare la riabilitazione presso la sua dimora Tanta paura per lui e per la sua famiglia non ha mai abbandonato l'attore in questa situazione difficile Richard Ghiar ricoverato in Messico.L' amato attore internazionale Richard Ghiar che si trovava in questi giorni, in vacanza in Messico, in una località vicino a Nuevo Vojarto in occasione del quarantesimo compleanno della moglie Alejandra Silvia Una vacanza in famiglia alla quale hanno partecipato anche i loro figli Le notizie parlano di giorni di malesseri generali dell'attore già precedenti alla vacanza che, men mano, si sono poi tramutati in una brutta tosse, già prima della partenza per la vacanza messicana Ma non preoccupato per la condizione che non sembrava seria Ghiar ha comunque deciso di partire per il viaggio concordato in precedenza con la famiglia Durante la vacanza le condizioni di Richard Ghiar suono peggiorate e hanno costretto al ricovero l'attore Successivamente dopo accertamenti e controlli gli è stata successivamente diagnosticata una polmonite Sembra che dopo il ricovero e le successive dimissioni, l'attore abbia proseguito la sua vacanza attuando una cura antibiotica ma restando lo stesso nella zona di Nuevo Vojarto La moglie Alejandra ha condiviso sul social una foto che mostrano lei e il marito assieme ai figli mentre raggiungono una spiaggia per trascorrere, come lei stessa spiega, un'altra giornata al mare Un grande spavento per gli ammiratori dell'attore che si è allarmati per lo di salute del grande attore hollywoodiano ma anche altri media locali, ora, stanno riferendo che le condizioni di Richard sono in netto miglioramento nonostante non sia ancora nel pieno della sua salute e trascorre, sempre in merito a ciò che riferiscono i giornalisti locali, il suo tempo sulle spiagge messicane accanto alla sua famiglia per riprendere a pieno le proprie energie Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti